Una novantina di partecipanti e 7.000 euro netti raccolti tra quote di iscrizione e sponsor per i bambini malati. È andata in scena oggi al circolo la pinetina di Appiano Gentile la gara di golf di beneficenza organizzata dal Lions Club Milano Host e dal Lions Club Milano Golf St. Andrews, il cui ricavato andrà all'associazione Vida sia la casa a sollievo dei bimbi nel quartiere gallaratese di Milano. Primo ospice pediatrico della Lombardia che si rivolge ai bambini con malattie inguaribili o con bisogni specifici che necessitano di assistenza per brevi o lunghi periodi con le loro famiglie. I fondi raccolti saranno destinati in particolare alla creazione di una stanza multisensoriale volta a sviluppare la percezione per chi è affetto da autismo. La gara, di cui Espansione TV era media partner, ha visto arrivare ad Appiano Gentile golfisti da tutta la Lombardia, ma anche da fuori regione. Siamo molto soddisfatti, nonostante il covid che anche quest'anno ha portato a qualche defezione, ha spiegato Raffaella Guidotti, referente per il Lions Club Milano Host, il primo Lions nato in Italia. I fondi raccolti ancora una volta finanzieranno un progetto importante. Ogni anno, aggiunge, focalizziamo la nostra attenzione e le risorse raccolte verso un obiettivo concreto che poi in breve tempo vediamo realizzato. Tra i progetti già finanziati, un pulmino per il trasporto dei piccoli pazienti e un'apparecchiatura per la rilevazione dei parametri vitali a distanza.